buon pomeriggio carissimi miei amici guardate è la diretta del marvin guardate un vecchio betford guardate i cani qua che abbagliano fanno fanno coreografia dai smettila di abbagliare guardate il marvin sta parlando gli amici del vintage sentite che musica bravissimi dai venite guardate è coreografia ci portiamo sul betford guardate è la diretta è la diretta del marvin guardate oh state abbagliando dai faccio un po per gli amici di auto abbandonate dai stai tranquillo dai guardate qua la diretta del marvin davvero spettacolo un betford guardate tra i cani questa volta ce l'ho fatta è un'impresa davvero pazzesca dai stai tranquillo dai chi no continuo vai tranquillo ecco qua per gli amici di auto abbandonate guardate che spettacolare betford è la vera diretta del marvin carissimi amici vi saluto cani zitti c'è il marvin qua è guardate spettacolo ed ecco qua si sono calmati hanno piano piano riconosciuto anche la mia voce forse sapranno anche loro che è il marvin dai ok ed eccoci qua carissimi amici betford davvero veramente fantastica questa diretta ciao a tutti e a presto